Si aggrava ulteriormente, quindi il bilancio dell'ultimo nubifraggio a Ginosa è salito a due. Infatti il numero delle vittime si cercano incessantemente, altri due dispersi in un territorio ormai prostrato. Leonardo Zellino. Sì, vorremmo sapere se gli indumenti ora li state portando qui sul bordo stradale. Il corpo hanno trovato. Le robe. Ai parenti il doloroso compito di riconoscere gli indumenti. Il corpo di Chiara Moramarco, 27 anni, però non è stato ritrovato vicino all'auto e ai vestiti, ma a 10 chilometri più a valle. Trascinato dal fiume di fango e detriti che lunedì sera ha devastato Ginosa. Il cadavere era nudo in un campo di arance. Il marito di Chiara invece non si trova ancora. Giuseppe Bari risulta disperso. Marito e moglie di Sant'Ermo in Colle lavoravano come guardiani in una cava della zona. Manca all'appello anche un altro uomo, Pino Bianculli, 30 anni. Il giovane lunedì sera è stato sorpreso dal nubifragio mentre tornava a casa in macchina a Monte Scaglioso, nel Materano. L'auto del giovane è stata ritrovata in questi terreni e molto probabilmente lui l'ha abbandonata perché è stata ritrovata chiusa e col frino a mano inserito. Intanto a Ginosa nel pomeriggio i funerali di Rossella Pignalosa, 32 anni, commercialista. Domani avrebbe dovuto festeggiare il matrimonio della sorella e invece per la sua famiglia sarà un giorno di dolore. Già due anni e mezzo fa un'altra alluvione devastò il territorio di Ginosa. Da allora i fondi per la ricostruzione non sono mai arrivati del territorio e ancora di più in ginocchio. Intanto la regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza. Mimmo Spina. Ingenti danni all'agricoltura e alle infrastrutture. Tre ponti abbattuti. Impressionante la vista da quello che taglia in due la città e che porta al comune di La Terza. Ci sono relitti di camion, auto, tronchi di alberi, macerie, mattoni misti a tufi, sgretolati dalla violenza dell'acqua e con esse le case. Anche quelle centenarie, robuste perché edificate dai contadini, sono state spazzate via come barchette di carta. Nella zona di Ginosa sono interrotte le principali arterie viarie. Al momento qualunque comunicazione è bloccata. Le linee telefoniche, sia fisse che mobili, non funzionano. Sono segnalati danni alle abitazioni perché invasi dall'acqua e fango. Molti animali sono morti. Nelle campagne a valle del paese, tra radici di alberi che invadono strade e stradine, campi di verdure interamente sradicate, solo i fortissimi ulivi sono resistiti alla forza devastante della natura. Qui la carcassa di un cavallo è avvolta al tronco di un albero di arance e i cui frutti cominciano a colorare, una cromaticità che contrasta con il grigiore dello scenario. E il cielo, pumble o su Ginosa, non incoraggia il lavoro incessante delle squadre di operai, tecnici della protezione civile, che fin dalla prima luce dell'alba hanno ripreso le attività. Intanto, a causa del maltempo, la situazione nel Tarantino è grave anche alla Terza e a Castellaneta, dove è esondato il fiume Lato, provocando allagamenti ed il crollo di un ponte sulla strada comunale 65. Nel Foggiano, invece, a causa delle forti piogge della scorsa notte, è stato chiuso al traffico un tratto della statale garganica fra Vieste e Mattinata. Ma perché nella nostra terra una pioggia, pur molto intensa, può provocare queste devastazioni? Lo chiediamo in diretta alla nostra ospite, il direttore generale dell'Ambi Puglia, l'avvocato Anna Chiumeo. Buongiorno innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito. Proprio riguardo a Ginosa, voi avevate segnalato il pericolo incipiente, abbiamo a questo riguardo delle immagini di un DVD che avete girato, e così avevate già segnalato? Sì, avevamo segnalato già prima dell'alluvione del 2011, e lo stesso anche per Foggia. Noi segnaliamo ormai da anni, abbiamo depositato i nostri progetti presso la regione, e non solo, anche a livello nazionale, ma non abbiamo ancora avuto nessuna risposta. Senta, quali sono gli altri territori a rischio idrogeologico nella nostra regione? Facciamo quelli più imminenti, più urgenti, perché è tutta la regione che è a rischio. Oltre a quelli già citati, c'è la zona di Bari e della Bat, canale Ciappetta Camaggio, ogni volta allaga la città di Barletta. C'è un canale della Murgia, nella zona di Canosa, che se dovesse piovere, non come a Ginosa, ma ancora meno, potrebbe procurare gli stessi danni che è successo a Ginosa. Ecco, proprio riguardo alla tutela del territorio, si parla in questi giorni del piano paesaggistico regionale. Lei è d'accordo, crede che sia uno strumento idoneo per tutelare il territorio? Non c'è dubbio che è uno strumento idoneo, utile, quindi va approvato con la massima urgenza, così come con la massima urgenza bisogna smettere di parlare, iniziare a fare una serie programmazione di manutenzione del territorio. Lo voglio sottolineare perché si parla troppo e si agisce poco. Grazie al direttore generale dell'Ambi Puglia, l'avvocato Anna Chiumeo. Noi andiamo avanti con il nostro giornale, passiamo alla croce.